Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che il tempo sarà più stabile sul nostro territorio nella giornata di mercoledì 3 gennaio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo qualche nebbia in pianura, a seguire ampi e schiarite ma con locali addensamenti e cielo a tratti anche coperto. Le temperature saranno stazionarie o al massimo in lieve locale aumento, minime tra 1 e 5 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo residue piogge, dal pomeriggio sarà più asciutto ma con frequenti nubi, solo localmente potrà uscire il sole. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole salvo qualche addensamento qua e là. Temperature minime tra 0 e 1 grado, massime sugli 8-10 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla realizzazione di impianti fognario alla realizzazione di impianti fognario alla realizzazione di impianti fognario.